Non posso rispondere No ancora no Non possibile? No Non mi fa entrare ma ho votato dentro una pubblica normale Eh si prova, si prova, si prova, si prova E solo per cazzo la farà E ti farà entrare, ti farà entrare, non ti preoccupare Questo vantaggio non è riuscito, un rockstar del merda figlia di p... Che sembra di essere zonata e la prende i tre, te lo giuro Noo giallo Ragazzi ho iniziato la diretta Allora me l'avevo detto da giallo Se ve la volete vedere, canale CiccioKing76 Ragazzi sei anche tu su Youtube Ciccio Si vabbè ma non me ne frega niente, io ho il canale così Quando faccio qualche video lo metto 3 per farlo vedere ma no Ma no perchè mi interessa fare... Like, iscritto, non mi hanno fatto niente Advo No scassiamo la mano e che la scassavo Ah ma chi è Cristian sta a scassare? Io non lo so, sei sempre tu Cristian da morire in una carrozziera e da pagano spuntiare Mi chiesto è sempre tu, ande Si ne fa no Mi chiesto che ce l'ho fatta Oh finalmente Chi manca? Manca Versace che ho... Che online... no Cristian no come si chiama Kiddo Cristian no io l'ho visto online ho picciato un bel pigliato a pugni Franco ma onde sei? vai Franco Lioni chi fa la macchina? vai a prendere la macchina la macchina vieni con me anche se sei sempre tu sei dannoso no ma dai che non siamo tantissimo però dai vieni qua sto arrivando sali in macchina e vieni con me facciamo una cantellata delle macchine Tony ma dove sei? sali sali ah ci sei Tony Emanuele ci sei ah ok si 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 apposta non ti avevo visto siamo tutti con le macchine chi manca? 1 2 3 4 5 6 scusa se siamo 10 mancano 4 persone 7 eh se mi fai le mettere qua ciccio qua 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 falco falco qua 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 senti che ripeto c'è sta macchina eh c'è una macchina bella eh no fal vabbè vai ragazzi che poi ci facciamo il giretto arriviamo in spiaggia e facciamo da cacca in spiaggia gialluca ti metti in testa tu io mi metti in coda così faccio vedere tutte le macchine eh c'è vogliamo e poi io 11 trippino allora siamo a 11 ci sono 6 7 macchine ne mancano 4 ma non esiste io sto prendendo la mia sto arrivando per prenderla mia ma il lune è venuto anche io ho fatto la prima ti metti in a ciano poi te lo chiedo perché è tutto scritto e gli attornati a solo non è un po' di stagione non è un po' di stagione vediamo cosa prendere non avevo mancino non avevo da rubare una perla 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 adesso quali erano l'uno, il due, il tre pegliamo non è male sulle mani ciccio fai su un ciccio che c'è affatto ma che cazzo fai tu c'hai Andrea ciccio hai visto il mio nuovo vestito ciccio mi sembra un manico ben vestito mi sembra un... mi sembra un nonno con i mutannoni mettila qua Vito mi sembrava come si chiama lo stornello mi sembrava ma che c'è il stornello e b è chiud raga mettetele pure di qua le macchine da questo lato e che vacancia hai cinque minuti per cambiarla hai un fare buidello perché tecco fuori Andrea Andrea tecco fuori un fare buidello chi è se no vediamo se c'è qualcosa lì sopra qua è che mi manda un messaggio quando siamo tutti appena siamo tutti faccio una cardellata delle macchine e poi partiamo capite vieni qua col drag no c'ho niente non c'è eh no qua c'è le moto qui c'è un moto tutte tutte quelle modificate fuori dentro casa non sono quei desse qua faccio il fuori ma non ne posso andare finché che sono poveri vieni ci sto qui abbassi abbassi oh chi è che chi è che sta fischiando nel mo raga non fate il bordello perché butto fuori eh io stai facendo i caldi ne prego da lì a ciccio non sa che metto il volume ci sto facendo le tibie dimmi io faccio il polizio non c'è la ciccola bello bello no potremmo chiamare quella crew dai quelli per la sicurezza oh ma vero chi ce l'ha con questo completo io 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 sono crew ma io non stanno ti veniamo ma la mia moglie da giù sì dai che perché ma non ma che io ce l'ho non c'è ma non c'è ma non c'è ma non c'è ci manca oh ma già manca 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 bimbo franco le presa la macchina ok sono 3 4 5 6 7 8 ragazzi mancano 8 quattro macchine vabbè te lo so trippi chi è che manca leone o nei tennis e necca stornello vuoi partecipare al da duro ciao gabrie questa macchina che bella come si interessa vieni vieni pure tu al da duro andrea un po un po un po un po il buio di ecco che arrivano altri mettila a seguire trippi raga non fate bui dire niente guarda chi sta facendo bui dire l'amore ma vede a fare un cazzo andrea dai però non è in gaffa in gomma c'è perché stiamo finire da andrea in chiamo a fare cose buona mica veramente ad esempio con facciamo il dato nel poter metto a fare bui di almeno c'è c'è stai urlando però perché non sento un pazzo che è pazzo come si apreva le portiere con la macchina non è un'interazione veicolo veicoli remonte cosa è remonte attivazione di voto cosa è? no è funzione remota veicolo posso sportelli veicolo che fina scappamo ragazzi chi è che sta sparando che minchia fai toni mio porco dio ma che cazzo mi spari per la taglia se è coglione oh non mi fai ragazzi allora e toni come a fare ragazzi andate via con la polizia per favore non lasciate coglioni questo va in ascolto ah 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 cinque cia che sbiggio si fai che hai pietto eh già raga io c'è dico ripeto se se continui a fare il bui dello me ne vai o hai sotto tutte cose e mi vanno a fare un tuo culo eh mi dovete fare incazzare c'è dico una cosa stiamo cerca abbiamo cerchiamo di fare e infatti questo bui dello mi andate fai exilio a falco vabbè ok falco va fuori ma è che è il coglione che con la polizia no falco va fuori e spelli no no lo so io che devo fare lo faccio io e spelli avevo un vabbè chi è un po' no non bordo ma chi è che hai sparato andiamo in fatti a non i Io sono fai, non so se ne so la macchina è bello che stiamo... Morisete niente a me? Stanno sparando verso... Minchana, vai lì se vuoi scassare! Vai lì se vuoi scassare! Lutta la macchina! Boh! Io sono fai G, ne la metta lotandosi, G Chi sta stagando a me? Oddio parco, ma mi ha seguiti Ah buongiorno, non ne vieni a metterlo tanto Sì, andiamo a sistemare tutte le macchine qua Seguita, ci sono! Ah bello, ora bello Ora vediamo che cosa fai nella polsia al vero No picciotti, l'ho dica, appena accendere il buidello Ragazzi, appena accendere il buidello Stacco tutte le cose, non ne faccio più da tu Guarda, mi posso fare anche a prendere un pochino più con la macchina E' sicuramente dove? Sì Venga a prendere io, fai Non lo so Non lo so Non lo so Sì Vieni Sì Ah, cazzo, sono qui di da cane Vabbè, a inviato la polsia, guarda Stavissimo Oh, ragazzi, non è tua polsia apoglietta? Ragazzi, andiamo tutti da Los Santos Sistamiamo le macchine e poi andiamo in spiaggia 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 andiamo in spiaggia e poi 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 andiamo in Ehi... Ehi... Oh, ci metterà bene il resto dal bus... ...quell'a cosa dal digital... Ragazzi, è mezzogiorno, f***a... ...dobbiamo aspettare la sera... ...como... ...como... ...como, ramanno dopo... ...dai, dai, non c'è la sera, vanno... ...dai... Oh, ma che è che vuol dire cosa? Una gran fuoco? Vincenzo così Vincenzo a mia madre, spalami mai Vito Gab, ma chi è? Ciccio non lo faremo mai Che cosa? Sul raduno Chi è che c'è qui di fianco? Oh, c'è un brutto colore C'è un brutto colore Mi sta boccando di questo Guarda 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 Aspettavo Stai gestando la max Ma è sicurissimo tu Oh, facciamo una cosa Facciamo un giro Aspettamo Facciamo una gara di velocità nella spiaggia Scusa 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 Ho detto Se sei messo la prima Non l'ho fatta apposta Ma cosa fa una gara di velocità? Ma cosa fa una gara di velocità? Beh, con quelle gara di velocità? Ma che cazzo fai? Ma che cazzo fai? Vai, vai, vai Uno Due Tre No, stiamo facendo un gara di velocità Qua nella spiaggia Nel frattempo che fa buio Così poi facciamo due foto al buio E... Finiamo Ottima Venite qua Venite qua fino all'inizio Sì, diciamo La tazione posteriore C7 Vole 700 cavalli La tazione posteriore A secondempo che sia Sì Il 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 Manco più vicino a fare uno, due e tre e fai il tiro, dai, il cannavato. Andi, chi fa ecco? Se chiamano me la mamma. Andi, chi fa ecco? 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 però non capo quando fai tabu ma scusa a chi si beva tabu ma mu spieghi scusa ciccio non è novità che a me che vuole tu eh chi è che va il coglione che va al contrario non è al contrario è che è successo è una idea è è è ah ma c'è una madre che c'è un po' c'hai macchina qua cristo c'hai macchina Grazie a tutti. 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 Oh ma la pare tui sulle caduzziere, mi c'è? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Do you want me to bring your right? Di nuovo? Do you want me to bring your right? No, on, face you? No, okay? No, 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 non mi hai preso. Mi hai fatto volare, è diverso. No, no. Oh, facciamo un piccolo elenco Qui indietro, Leo La lettera è messa Oh, è un po' di lungo Qu'acciamo un piccolo? Oh, guarda, 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 questa Oh, ritornate là, ragazzi, che sta facendo buio In spiagge, in spiagge Oh, ritornate là, ragazzi, qui non andiamo insieme, assalto Eh, tu andiamo a prendermi l'altra mano Andiamo in giro, no, da Ma c'è un ruolo, in modo che c'è un ruolo Fuori Come è che ti ha detto ancora, c'è? Tu non lo ammazzate Ma che stiamo piantino? Questa è l'impassivo Ah, qui cazzo, vada, vengo con questo E' un giro, e' un giro, e' un giro Andiamo a guardare, e' un giro, e' un giro E' un giro Senti, qua l'albero Oh, zio Ehi Eh, guarda che guarda per te la tua, che trovi qualcosa E' un giro Guarda che, guarda che, è, 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 è il giro ah dentro oh no mio, oh no mio dentro perchè non mi vedo porca no questo mio e poi che devo fare? entro dentro e poi che faccio? metti la musica vantaggi a bici un'unico 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 qui vantaggio un'unico 5 7 mi sento la musica 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 ma già lo sto facendo il filmino è in diretta ma c'è un po' di ridardo ma c'è un po' di ridardo ma c'è un po' di ridardo è 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 un po' di ridardo ok dai tutti nella gara ci siamo riusciti alla fine dopo un po' di riabile ci siamo riusciti è un po' di ridardo è un po' di ridardo